Mario De Carlo, il regista di quest'opera in Rigoletto, che troveremo il 6-8 agosto presso la corte del Palazzo Comunale a Locri. Nell'incontro con Serenella Freschini già ha raccontato lei, perché soprattutto riproporre nuovamente Verdi, i Verdi che magari in questa bellissima location si trova adeguatamente localizzato? La scelta di Rigoletto non è casuale, è il frutto di una determinazione da parte nostra, della Freschini mia e componenti dell'Academy, determinazione di offrire qualcosa di forte, di decisivo, di potente sia ai ragazzi che frequentano l'Academia, sia al pubblico di Locri. Intendo dire, normalmente spesso le Accademie hanno come oggetto di preparazione opere ritenute più semplici vocalmente, destinate a giovani più in erba, ma noi siamo ambiziosi, puntiamo in alto, diamo fiducia ai nostri giovani, probabilmente fiducia anche tanto a noi stessi, nelle nostre capacità di infonder loro questo coraggio di andare in scena. E poi abbiamo voluto sempre, già fin dall'anno scorso, offrire al pubblico di Locri, che così tanto ha dimostrato di amare la cultura e la grande musica, un titolo del grande, grandissimo repertorio. Lei è il regista di questi ragazzi, come ha ribadito lei, ma lo vediamo, sono giovanissimi. Come li ha trovati? Diciamo, perché poi attraverso l'Academy, come diceva Serenella Freschini, il loco, cioè scegliete, diventa quasi una sana competizione, socializzazione. Come li ha trovati, il regista? Il bello della formula che noi abbiamo perseguito è quella di non fare delle preselezioni. Quindi nasce un bando a diffusione internazionale sui canali deputati, quindi internet, piuttosto che tanti giovani che decidono di voler affrontare questa bella esperienza e credono di essere in grado di farlo, si iscrivono. Il primo giorno ci si incontra, ci si guarda in faccia, noi li ascoltiamo naturalmente e da lì partono tutta una serie di feedback, di sensazioni nostre verso loro e loro soprattutto verso di noi. Da lì incomincia il lavoro di gruppo, da lì incominciamo ad affidare i ruoli vocali e da lì incomincia il lavoro di Cesello giorno per giorno con loro e ogni giorno è un giorno nuovo. Creiamo in continuazione. Ma il bello, ci tenevo a dirlo questo, è che la formula adottata consente di vivere quasi con questi ragazzi 24 ore su 24, solo le ore del sonno ci separano, per il resto siamo sempre insieme, dalla prima colazione alla cena. E tutto questo è molto formativo perché significa anche fuori da questo spazio continuare a creare i ruoli e a fare arte. Cosa vedremo in questo Rigoletto? Come ti vedremo? Ognuno poi mette del suo. Certo, il Rigoletto è una delle opere, forse l'opera per eccellenza, in cui il baritono deve emergere in tutte le sfaccettature vocali, artistiche, sia di espressione che anche vocali. Quindi è una regia molto interessante perché la regia è classica e questo è molto importante per me perché molte volte si fanno regie strambe, volgamente parlando, utilizzo questo termine, invece questa regia a me piace molto e poi, ripeto, non si smette mai di raffinare un ruolo e quindi sono molto contento che la città di Locri faccia questa iniziativa per incoraggiare prima di tutto i giovani perché senza di loro l'opera, la musica, l'arte in generale smetterà. Dal punto di vista musicale abbiamo pensato sicuramente di, come ho già avuto modo di dire anche in altre interviste, di levare innanzitutto certe tradizioni, certe fanfaronate che ultimamente si sente nella musica verdiana, quindi di dare più spazio alla scrittura vera di Verdi, naturalmente anche accontentando il pubblico e quello che si aspetta perché non ci dimentichiamo che dentro il Rigoletto ci sono le aree più famose, i motivi più celebri, parliamo della donna immobile, parliamo di questo o quella per me pari sono o anche Bella figlia dell'amore che tutti ci ricordiamo nel film di Amici miei con Tognazzi e Adolfo Celi, eccetera. Quindi noi mettiamo in risalto questo però sempre nel rispetto della partitura verdiana. Certo, Rigoletto rispetto a Traviato è un'opera un pochino più complessa perché nasce in un periodo in cui Verdi stava maturando con questo passaggio proprio tra la Traviata e il Rigoletto, quindi secondo me merita molta attenzione da parte del pubblico.